Buongiorno, mi chiamo Franca Perin, sono responsabile della ricerca ISG per generali investment. Abbiamo deciso di partecipare a questa giornata che è la fase conclusiva della settimana dell'SRAI per diversi motivi. Il primo è che siamo membri del forum per la finanza sostenibile, facciamo parte del consiglio di amministrazione, quindi era per noi doveroso di partecipare a questo evento che è stato fatto per la prima volta in Italia. La seconda ragione è data dall'impegno che la nostra società di gestione ha in materia di analisi ISG. Abbiamo un team dedicato e cerchiamo quindi di analizzare le imprese dal punto di vista estrafinanziario, quindi attraverso l'analisi dei diversi criteri ambientali, sociali e di governance, per capire, per identificare le imprese le più responsabili. Per quanto riguarda l'SRAI in Italia siamo ancora nelle fasi iniziali, ma siamo fiduciosi in quanto è un modo di fare una finanza in maniera diversa, con delle motivazioni che possono prendere in considerazione i diversi valori e quindi noi siamo sicuri che l'SRAI, anche se in termini numerici rappresenta ancora molto limitato sul mercato italiano, avrà, almeno speriamo, una crescita importante negli anni a venire.